La questione trasporti aerei ritorna a far parte dell'agenda politica Sarda. Ieri erano i lavoratori dello scalo di Elmas, oggi sono arrivati da Olbi alcuni rappresentanti dei lavoratori di Airitani. Si chiude positivamente l'avvertenza che da anni coinvolge i lavoratori dell'ex associazione regionale allevatori della Sardegna, per loro prevista inizialmente un'assunzione a tempo determinato, in attesa del concorso per la stabilizzazione. Forte preoccupazione per la condizione femminile per i ragazzi. Le prime are legate ai margini delle politiche sociali, mentre i giovani sono disorientati, privati della scuola e della socialità. 150 eventi per i 150 anni dalla nascita della scrittrice Grazia Deledda, ricco programma di festeggiamenti non solo a Nuoro per celebrare il compleanno del premio Nobel. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione da Telecosta Smeralda. Subito in apertura i dati sui contagi, 216 oggi nuovi casi, sono 4.201 in più i test effettuati proprio oggi rispetto a ieri. E c'è un numero in più che ci aiuterà a comprendere il contagio e l'andamento del contagio in Sardegna. Ed è il tasso di positività che si registra tra numero dei tamponi effettuati e i positivi riscontrati. Ebbene il tasso di positività oggi è lo 5,14%, 5 i decessi. Andiamo avanti con i servizi. Sì, la questione trasporti torna al centro dell'agenda politica. Questa mattina i lavoratori di Air Italy hanno manifestato sotto il Consiglio regionale e ha incontrato il presidente della massima Assemblea Sarda, Michele Paes. Chiedono una ricollocazione dei 1.500 lavoratori e l'allungamento della cassa integrazione. Dopo i lavoratori dello scalo aeroportuale di Elma sotto il Consiglio regionale sono arrivati i lavoratori Air Italy. L'azienda è liquidazione e la cassa integrazione per loro prevista. In questa fase di passaggio scade il 30 giugno prossimo. Soltanto un anno fa la loro vertenza era al centro della cronaca. Sembrava che la regione se ne volesse fare carico perché insieme alla compagnia aerea e ai suoi lavoratori si stava perdendo un pezzo importante del sistema trasporti Sardegna. Gli eventi successivi hanno giocoforza deviato l'attenzione. Ora però alle porte di una stagione turistica che si spera riporti nell'isola il consueto via vai di passeggeri riprendere in mano la questione Air Italy diventa fondamentale. Noi chiediamo alle istituzioni tutte che 1.500 lavoratori di cui circa 700 sardi possano beneficiare anche a loro di ciò di cui stanno beneficiando gli altri lavoratori italiani. Intanto il blocco dei licenziamenti che per gli altri è avvenuto fino a marzo, per noi invece no. No, siamo stati esclusi. E comunque la proroga della Cassa Integrazione che per tutti gli altri lavoratori è stata di 12, 24, 36 mesi. Per i lavoratori di Air Italy solo di 10 mesi. Questi 10 mesi scadono a giugno. Noi in questi mesi non abbiamo potuto manifestare né mobilitarci perché coperti sia mediaticamente sia impediti proprio nei movimenti dall'emergenza Covid. Quindi oggi iniziamo una serie di manifestazioni. Chiediamo di poter entrare nel rilancio dell'azienda italiana di trasporto aereo che si chiama ITA che sarà dotata di una dote di 3 miliardi e 300 milioni circa che non dovranno andare a beneficio solo ed esclusivamente di un'azienda che si chiama Alitalia ma dovrà andare a beneficio di tutto il settore. Noi facciamo parte di quel settore. Come nazione dobbiamo cercare di intercettare tutto quello che sarà lo sviluppo del trasporto aereo con le nostre risorse e non permettere a compagnie straniere di venire a predare questa possibilità di lavoro. Un investimento così imponente come quello che abbiamo sentito di 3 miliardi di euro per far ripartire questa macchina del trasporto aereo ha sicuramente il potere di poter gestire questi numeri che tra gli ex dipendenti Alitalia, Air Italy, altre compagnie minori che sono comunque nel frattempo fallite o che hanno avuto problemi anche dovuti alla pandemia possono essere ricomprese in circa 22 mila persone che possono dare vita a un nuovo sistema del trasporto aereo. Sentiamo anche che cosa ne pensano sull'argomento i rappresentanti in consiglio regionale. Abbiamo sentito un esponente di maggioranza e uno dell'opposizione. E questa mattina i rappresentanti dei laboratori di Air Italy hanno incontrato i consiglieri della maggioranza e dell'opposizione. Linea comune è quella di mantenere alta l'attenzione del governo sui problemi della continuità territoriale e dei trasporti in generale. La maggioranza è sempre attenta a questa problematica e è sempre sul pezzo, fin dall'inizio. C'è una collaborazione continua da parte del governo. Abbiamo assolutamente bisogno che il governo si faccia parte attiva di questo problema. Noi siamo pronti a offrire delle soluzioni, però è una cosa che non possiamo assolutamente gestire solamente come regione stradene ma abbiamo assolutamente bisogno dell'intervento da parte del governo. Il Presidente Solinas con quelli che sono i ministri di competenza ha più volte, con tutto il governo ha più volte, si è più volte relazionato. Abbiamo fatto delle proposte e attendiamo anche delle risposte. La Giunta deve battere un colpo. È inammissibile che con l'opportunità che il decreto rilancio ha dato questa maggioranza sia in assoluto silenzio e non soltanto non abbia una visione ma dimostri un benefreghismo che è assolutamente inaccettabile. Qui stiamo parlando di lavoratori di alta professionalità che io e questo è un appello che faccio a loro devono rimanere uniti, non si devono dividere perché altrimenti l'avvertenza verrebbe inevitabilmente indebolita. Poi la rappresentante è stata ricevuta dal Presidente del Consiglio, Michele Paes, che ha espresso tutta la solidarietà della Massima Assemblea Sarda nel porre mano alla questione trasporti nella sua interezza. Ci sono buone notizie per i veterinari, agronomi, tecnici di laboratori o dell'ex associazione ragionale allevatori. Avviate le procedure per il loro passaggio e la loro assunzione in laore. Ce ne parla Eleonora Bullegas. L'avvertenza dei lavoratori dell'ex Aras è a un punto di svolta. Il nuovo commissario di laore, Mimmo Solina, ha assicurato che le procedure per l'assunzione a tempo determinato dei 234 ex dipendenti dell'Associazione regionale degli allevatori negli organici dell'Agenzia Laore si concluderanno venerdì. I segretari regionali di FP, CGL, Will, FPL, Sadirse e SIAD hanno accolto la notizia in modo favorevole. Il provvedimento consentirà anche la ripresa dell'attività del laboratorio di Oristano, che si occupa delle analisi del latte o vino, caprino o bovino di tutta la Sardegna. Un passo importantissimo perché finalmente si vede la prospettiva della firma dei contratti. Diciamo che il periodo che è stato indicato è di otto mesi e ci sembrano pochi perché non è realisticamente fattibile secondo noi il concorso pubblico in questo breve arco di tempo. Per cui, anche perché la 34 lo prevede, sarebbe opportuno che la durata dei contratti fosse più ampia e lo chiederemo già oggi noi, Sadir, CGL e SIAD alla Giunta regionale e al Commissario di Laore. A parte questi 234, ci sono altri lavoratori che potranno fare un concorso pubblico? 234 sono quelli rimasti in servizio al 31 dicembre dell'anno scorso perché tra pensionamenti e altro si sono ridotti a questo numero. 260 invece è il numero previsto per il concorso pubblico che deve essere bandito. Naturalmente da parte nostra riteniamo che le professionalità acquisite vengano tutelate molto bene in sede di concorso pubblico. La legge lo prevede, devono esserci premialità per il servizio svolto perché queste persone hanno dato 30 anni della loro vita in questo lavoro e devono essere tutelate. E sempre a proposito dell'assunzione a tempo determinato dei dipendenti dell'ex Aras, Eleonora Bullegas ha sentito per noi l'assessora regionale al personale Valeria Satta. Finalmente, dopo varie peripezie, dopo una serie di lungaggini, siamo contenti perché grazie alla legge approvata da Consiglio il 28 dicembre, la legge numero 34, 234 lavoratori di Aras potranno entrare finalmente in lauree. Ci sono state molte polemiche sicuramente comprensibili del tipo si poteva fare prima? Sì. Si sarebbe potuto fare meglio? Assolutamente sì. Sì, però per noi è importante raggiungere l'obiettivo come abbiamo fatto. Per cui adesso la squadra è a lavoro, il dottor Solina è a lavoro, la direzione del personale a lavoro ha approvato il piano di fabbisogno, la modifica del piano di fabbisogno ha chiesto dal dottor Solina e siamo tutti in attesa tra circa lunedì, quindi tra una settimana, di vedere l'ingresso di questi 234 lavoratori. Un'ulteriore polemica che c'è stata ieri è la modifica del bando da parte del dottor Solina a otto mesi più eventualmente 12 rinnovabili. Questo vorrei tranquillizzare, semplicemente è stato fatto per far sì che in otto mesi si concluda e si concludesse il passaggio con i concorsi di questi lavoratori. Quindi la chiave è assolutamente positiva, è stato detto, modificando il bando e non la legge che chiaramente è quella permane, che in otto mesi i lavoratori se dovessero passare i concorsi sarebbero assunti a tempo quindi indeterminato e non in 24 mesi. Regione e associazioni agricole ha confronto giovedì per discutere della programmazione comunitaria e in particolare del PSR, il programma di sviluppo rurale. La Sardegna tra le regioni più virtuose nel 2020, le agenzie regionali da prima AGEA e dal 16 ottobre scorso ARGEA hanno pagato agli agricoltori dell'isola oltre 2 milioni e 600 mila euro. Valentina Ongiu Il PSR è uno degli strumenti più importanti a disposizione della regione per pianificare e investire le risorse europee. E proprio per condividere la misura con i rappresentanti del mondo agricolo le tante associazioni di categoria si confronteranno giovedì con l'assessore dell'agricoltura Gabriella Murgia che ha convocato i rappresentanti del mondo delle campagne per un incontro in videoconferenza con l'obiettivo di discutere l'estensione dei periodi di programmazione degli anni 2021-2022 del programma di sviluppo rurale. Un momento importante lo ha definito l'esponente della giunta sull'INAS per vagliare le ipotesi per l'utilizzo dei nuovi fondi europei anche in vista dell'incontro annuale sul PSR Sardegna dell'autorità di gestione presieduta dal direttore generale dell'assessorato e con gli uffici della Commissione europea. Tra i diversi punti all'ordine del giorno i risultati dell'attuazione del PSR 2014-2020 e i progressi per il raggiungimento degli obiettivi quantificati che ci rimandano una Sardegna virtuosa per il livello di spesa finora conseguito. E sarà soprattutto il nuovo ruolo dell'Agenzia Argea al centro dei lavori della giornata una performance più che positiva dell'organismo pagatore regionale che dal momento dell'inizio dell'attività il 16 ottobre scorso e fino al 31 di dicembre ha effettuato pagamenti del PSR Sardegna 2014-2020 per quasi 62 milioni di euro e un totale di poco meno di 14.000 domande. In particolare oltre 57 milioni e più di 13.300 domande sono state destinate per l'anticipazione dell'85% dell'importo richiesto da agricoltori e allevatori per le misure difesa del suolo, biologico e benessere degli animali. Sono stati poi effettuati pagamenti per quasi 2 milioni di euro, una sessantina di domande, per lo stato di avanzamento dei lavori e il saldo finale di altre misure strutturali. Infine altre 2 milioni di euro e quasi 500 domande sono stati destinati ad agricoltori e allevatori per le misure anche di indennità compensativa. Pagamenti effettuati da Argea ai quali però per il 2020 devono aggiungersi anche quelli in capo ad Argea per il PSR Sardegna che ammontano a circa 149 milioni per un totale di 210 milioni e 616 mila euro pagati agli agricoltori dell'isola. Andiamo in pubblicità. Rieccoci in studio. Saranno le donne a pagare il prezzo più alto per la pandemia. Perderanno più del doppio degli uomini i posti di lavoro e per la condizione femminile invece le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono esigue e ce ne parla Valentina Orgio. In prima linea nei lunghi mesi di emergenza sanitaria le donne sono state la colonna portante della lotta alla pandemia. Il 70% del personale di ospedali e strutture per anziani è appunto di sesso femminile ma oggi nella fase di ricostruzione economica e sociale del post-Covid le misure a loro favore sono poco chiare e le risorse a loro destinate decisamente scarse. E' inclusione donna allora alleanza di oltre 60 associazioni rappresentative di più di 40.000 donne di tutti i settori professionali e imprenditoriali ha denunciato la marginalità delle iniziative a sostegno dell'occupazione femminile e della parità. Come coordinamento 3 facciamo parte di questa rete di 60 associazioni a livello nazionale e la preoccupazione è davvero dovuta perché non c'è traccia neanche nel lunghissimo indice del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza della parola donna, della parola genere bisogna andare alla missione quinta dove è raccontata come sotto insieme di interventi sulle strutture o sull'infrastrutturazione sociale per sostenere le famiglie, i minori, i disabili e da questo si attenderebbe una ricaduta positiva sull'occupazione. In realtà la situazione è gravissima perché come già denunciato da mesi, fin da marzo, aprile, la condizione della donna in Italia è drammaticamente peggiorata abbiamo perso il 2,2% di donne occupate a livello nazionale in Sardegna è veramente drammatica perché abbiamo perso il 10,5% di donne occupate e la situazione è in discesa perché tutti i settori a prevalente occupazione femminile intanto sono settori particolari, il terziario, il commercio, il turismo, i servizi alla persona e sappiamo quanto la pandemia ha toccato in maniera drammatica questi settori quindi occorre a parere di inclusione donna e naturalmente a parere nostro come coordinamento 3 occorre cambiare proprio strategia ottica, le donne devono diventare centrali nel piano anche perché le donne sostengono settori importanti, cruciali, fondamentali come la sanità il 70% della sanità in Italia si regge sulle donne, addirittura fra i medici hanno superato il 60% sotto i 50 anni, se si fermano le donne questo paese è perduto ma non si può pensare che sulle donne possa continuare a gravare tutto il peso della famiglia come tutti noi sappiamo, sia lo smart working, le donne si sono ritrovate a lavorare in casa con 3-4 familiari e a dover sostenere 24 ore su 24 la famiglia, non è pensabile occorre cambiare strategia anche perché ce lo dice l'Unione Europea ma ce lo dice il World Economic Forum, ce lo dicono le Nazioni Unite ce lo dicono gli obiettivi di Agenda 2030 in cui il quinto capitolo è dedicato proprio alla parità di genere siamo fuori, siamo fuori da questi obiettivi, non li raggiungeremo mai ma soprattutto crolla il nostro paese e la Sardegna Difficile anche la condizione dei minori e degli adolescenti Maurizio Melis Aumentano i tentativi di suicidio tra i giovanissimi durante la pandemia nell'anno appena trascorso a livello nazionale si è registrato un aumento del 30% dei casi ad influenzare in negativo la mancanza di socializzazione, il blocco della scuola e lo sport Anche in Sardegna il detto dell'aumento dei casi viene confermato ma cosa è inciso sulla casistica degli adolescenti che si sono rivolte ai centri specialistici? Nel primo lockdown si è avuto un arrivo di casi severi dovuti un po' maggiore noi abbiamo avuto sempre tra il 90 e il 95% di occupazione dei posti letto perché? Perché i servizi non di ricovero sono molto diminuiti noi abbiamo avuto due ospital bloccati, tutto il territorio è stato in qualche maniera rallentato Le cose sono cambiate col secondo lockdown e a questo punto gran parte della rete di riferimento personale che vuol dire insegnanti, vuol dire parenti, giovani e adulti che possono essere il sugino, lo zio simpatico eccetera che per una parte importante di ragazzini sono un supporto serio e questo è venuto a bancare comunque l'intensità è diminuita e quindi abbiamo avuto un aumento di disturbi di media gravità che da noi arrivano gravi, disturbi del comportamento alimentare, tentativi di suicidio autolesionismo e uso di sostanze Le statistiche impietose raccontano che il suicidio risulta essere la seconda causa di morte fra gli adolescenti, problematica allarmante di cui però purtroppo se ne parla ancora poco è vero che il suicidio della seconda causa di morte è tra i 15 e 25 anni ma va ricordato che la prevalenza del problema è molto bassa cioè 0,04% mentre l'ideazione suicidaria è molto frequente nei ragazzini ormai trovando il 15% quindi tra pensare di morire e metterlo in atto un mare che può essere gestito e quindi come viene gestito? soprattutto aumentando le reti di supporto il rischio diminuisce c'è il tempo di gestito prima che arrivi al tentativo di avere il problema gli esperti consigliano ai genitori di stare con i propri figli condividendo il tempo e gli spazi di controllare il loro corpo, braccia e gambe se un ragazzo tendenzialmente allegro e sereno improvvisamente dovesse diventare irritabile aggressivo, tetro oppure non si dovesse nutrire è un campanello d'allarme fondamentale è la presenza continua e l'apertura del dialogo se non si è all'altezza chiede l'aiuto Seconda puntata dedicata a Viale Marconi a Cagliari ora parlano gli esercenti Antonello Lai Allora questa rivoluzione del traffico cosa vi ha portato? Diciamo c'è un po' più disordine mettiamola così però si spera che adesso la situazione un attimino si risolva come riescono a ultimare i cantieri siamo in attesa di capire meglio anche noi la situazione Il maggiore afflusso di macchine in questa via di raccordo come loro la vorrebbero raccontare è più pericoloso per i pedoni è più pericoloso per gli automobilisti perché pare che non ci sia neanche un'illuminazione sufficiente la notte No, l'illuminazione è un po' scarsa soprattutto dove c'è il piazzale in fondo la notte per i pedoni anche noi ce ne siamo accorti è un po' pericoloso anche perché le macchine chiaramente sono sempre di fretta complice alla velocità magari vedono i pedoni all'ultimo momento è inutile che fanno un verso per due auto e poi alla fine non hanno ancora sistemato i lavori per il pullman dovrebbero liberare l'altra corsia del pullman perché altrimenti si potrebbero fare tre corsie più quella del pullman Ci hanno cominciato dalla testa anziché dei piedi Esattamente dalla testa anziché dei piedi Via Mercalli una via che da tempo è abbandonata perché col fatto che nessuno poi alla fine prevedeva di fare i lavori tutti erano scontenti adesso va meglio decisamente Ma quando mai assolutamente oltre il covid adesso anche la strada comunque ci ha negato l'accesso qui infatti di fronte a noi come potete vedere c'è la doppia striscia continua la gente non gira più da questa parte oltretutto anche dall'altra parte arrivando da Quartu verso Cagliari la gente non sa che si può girare per svoltare qui a sinistra Lei che deve lavorare tutto il giorno come sta lavorando adesso? Da una parte male Perché? Perché ci sono troppi giri da fare per rientrare nelle rivendite noi abbiamo una rivendita qui e ci sta un po' creando problemi La gente cosa ne pensa? La gente finché non entrerà nell'ordine di questa nuova movimentazione chiamiamola così è un po' scontenta 150 eventi per il compleanno della scrittrice Grazia Deleda Nuoro si prepara a festeggiarla con un ricco programma che rende merito al premio Nobel a 150 anni dalla sua nascita parliamo con il sindaco del capoluogo barbaricino Andrea Soddu Quest'anno è il compleanno di Grazia Deleda che cade esattamente il 28 settembre del 2021 Per questo tra il 2021 e il 2022 la città di Nuoro in uno agli altri enti e istituzioni culturali della città, del territorio e della Sardegna sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica della Presidenza del Senato e del Ministero dei Beni Culturali organizzerà un vero e proprio compleanno con 150 eventi che si dipaneranno tra il 2021 e il 2022 e andranno a festeggiare dal punto di vista culturale musicale, del teatro, del cinema la nostra grande scrittrice e il nostro grande premio Nobel lo vogliamo fare con il coinvolgimento degli altri comuni di tutti i privati, le imprese culturali saranno interessate con noi a festeggiare questo importante momento di riflessione e di festa Dalla settimana scorsa ci siamo dedicati alla successione di Gianfrancesco Fara recentemente scomparso alla carica di presidente regionale del CONI dopo aver ospitato Andrea Contini oggi è la volta di Stefano Arrica attuale presidente regionale della Federazione Italiana Golf di questo ci parla Antonello Lai Stefano Arrica, 60 anni candidato ad essere il responsabile dello sport in Sardegna cioè la carica è quella del CONI cosa ti è venuto in mente Stefano? mi è venuto in mente più che altro sono sollecitato da anni che me lo chiedono gli amici sardi e gli amici romani per cui il mio caro amico Giovanni Malagore mi ha chiesto da tempo perché non ti impegnerai prossimamente in questa importante carica sportiva poi io vengo dopo due giganti che sono mio papà prima e Gianfranco Fara che è venuto a mancare un anno e passa fa per cui è un momento anche particolare per lo sport soprattutto è un momento in cui dobbiamo stare uniti c'è un problema che è di un'ingerenza politica che ci sta creando sicuramente delle situazioni particolari c'è un discorso che il CIO sta portando avanti per vedere se il nostro Comitato Olimpico Nazionale potrebbe essere libero da qualsiasi tipo di ingerenza politica per avere un'autonomia propria ma io voglio parlare in Sardegna voglio vedere tutto quello che si può fare in un'epoca nuova in un'epoca anche difficile ma quella del Covid in questo momento un'epoca in cui dobbiamo assolutamente cercare di far ripartire lo sport di farlo ripartire dalle scuole e di trovare il modo di poter aiutare tutte le piccole e grandi federazioni ho respirato sport dal primo giorno che sono nato in casa mia, mio papà mi ha insegnato dei valori importanti dello sport sono andato avanti, ho fatto l'atleta, un po' di tutto perché mi piaceva fare tutto poi sono stato in una grande polisportiva ho gestito Italia 90 per i campionati del mondo ho fatto le universiadi con il Cusi ho ricoperto l'incarico di presidente del Cuscaglie più una polisportiva con tanti sport con tanti problemi e poi mi sono innamorato del golf da ragazzo e adesso sono ancora il delegato della federazione golf che mi permette appunto di potermi candidare per questo importante ruolo di presidente del CONI è davvero tutto per il momento io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni e vi ringrazio per aver guardato il nostro canale